Eccomi siamo a Los Angeles sulle Hollywood Hills a casa del presidente Donald Trump. Buongiorno presidente. Hi, hi, hi. Non mi ricapita più, allora qualche domanda veloce. Cosa ne pensa della situazione economica internazionale? Oh, Ivanka, Ivanka, Ivanka is the best. Ma questa faccenda del muro, i messicani. No, 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 no way. Ivanka is the best. Va bene, buttiamoci sul gossip. Si avvicina la festa delle donne, le donne italiane. Italian girls? Yes, Italian girls. Ivanka, Ivanka is the best. Va bene, quindi, e Obama invece, parliamo di Obama, insomma, vi siete recentemente... Come on, give me a break, Obama. Obama, Ivanka is the best. Va bene, abbiamo capito, sicuramente Ivanka is the best. Grazie, presidente, can I shake your hand? You. Can I? Ma così? You, you welcome, you welcome. Thank you. Bye bye, presidente.